PAM! Un pa-pam! Per te che per noi, eh? Sì, un po'. Ma Varl dice che può aiutarci con la missione? Forse. Vorrei parlare con te di una cosa. Riguarda i Terranumi. Se puoi, ovviamente. Hai detto che volevi parlare dei Terranumi? Credo di sapere come guarirli affinché rendano di nuovo fertile e canto puro. Gaia mi ha dato delle istruzioni. Un codice di riavvio. Installato sui Terranumi, lo squilibrio finirebbe. Fantastico! Forse... È un sentiero spinoso. Dovrà essere Efesto a installarlo. O lo rifiuteranno? Gaia mi ha mostrato come. Avremo bisogno di nuclei di controllo dalle macchine di Efesto. Macchine tipo i Terranumi. Parli dei sanguicorni? Come quelli combattuti nell'officina? Sì. Gaia ne ha localizzati due a Ovest. Quindi uccidiamo le macchine, prendiamo i loro nuclei e poi li usiamo per adattare i codici così che i Terranumi li accettino? In teoria. Ma non sarà facile uccidere i sanguicorni. Lo faremo insieme. Grazie, Aloy. Ti invio la loro posizione. Ti devo lasciare. La terra fiorisca il tuo passaggio. So ha detto di cercare qui le parti di sanguicorno necessarie per curare i Terranumi di canto puro. Devo avvisarla che sono qui. Qui vicino dovrai trovare le parti di sanguicorno che servono a Zo. Meglio dirle che sono qui. Ehi, Zo. Sono dai sanguicorni. Vuoi venire? Arrivo subito. Aloy, è bello averti accanto. I sanguicorni dovrebbero essere più a nord. Prendiamo i nuclei di controllo. Grazie ancora per l'aiuto. Se funziona, se guariremo i Terranumi, finirà una generazione di sofferenze per il mio popolo. Credi che la prenderanno, Fane e il Coro. Pensano che l'estinzione della tribù sia inevitabile? Abbiamo avuto dissapori, ma forse sarebbero contenti di essersi sbagliati. Ecco lì, i sanguicorni. Non sono solo... Allora ci inventeremo qualcosa. Ti seguo, allora. Allora ci inventeremo. Allora ci inventeremo. Allora ci inventeremo. Ficca! Grazie a tutti. 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 Posso continuare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.